Buongiorno a tutti, siamo qui alla ultima giornata di questa terza edizione della 118.000 del soccorso. Siamo in una bellissima giornata che ci ha accolto qui a Modena, nella piazza di fronte all'Accademia Militare ed è veramente un onore avere con noi Anas che ha accaduto fin dal principio, fin dalla prima edizione in questa iniziativa culturale che porta nelle piazze e nelle scuole pillole di cultura sul primo soccorso e sulla sicurezza stradale. Siamo veramente onorati di questa terza tappa che ci ha contraddistinto sui numeri, abbiamo avuto veramente un aumento delle scuole che hanno aderito all'apertura di queste pillole di cultura e la novità di questa terza edizione sono state oltre alle isole che abbiamo toccato per la prima volta un mezzo ibrido che è a mie spalle che ovviamente abbiamo messo a disposizione per tutto quello che è l'attività istituzionale di primo soccorso e l'onore di essere stati invitati dal governo brasiliano a ripetere questa tappa in Brasile nell'ottobre 2020 perché essendo il terzo Stato al mondo con più vittime sulla strada sentono molto il messaggio del primo soccorso e della sicurezza stradale per cui hanno avuto il piacere di invitarci e noi ovviamente l'onore di accettare questo invito che toccherà i quattro stati del sud che sono Santa Caterina, Curitiba, San Paolo e termineremo a Rio de Janeiro nella spiaggia di Copacabana per portare appunto insieme ad ANAS il messaggio del primo soccorso e della sicurezza stradale. Grazie